e veri super guys ciao ragazzi sono mister hobby certo che volare con il maxi piper dell'hangar 9 è favoloso perché ti dà quella sensazione del volo del galleggiamento è troppo bello ragazzi chi ama il volo secondo me deve farsi un mitico piper perché così galleggia con i pollici in aria per modo di dire ok ragazzi mi raccomando sempre veri super guys e volate alto e con i troni volate basso nei circuiti autorizzati naturalmente ok guys ci vediamo presto con un nuovo video divertente mi raccomando cercatemi su youtube e iscrivetevi al mio canale mister hobby tv a presto guys ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti